ciao a tutti oggi vediamo queste forbici sono delle forbici apparentemente normalissime ma in realtà sono forbici per mancini hanno le lame contrarie queste sono delle forbici in acciaio inox con manico in nylon qui vediamo sia quelle per mancini che quelle per i destri ora questa è un normale paio di forbici per chi usa la mano destra mentre questo è un paio di forbici per chi usa la mano sinistra apparentemente sono molto simili ma ora vediamo qual è la differenza sostanziale tra questi due tipi di forbici la forbice per i mancini ha la lama tonda verso il basso e questa invece è la forbice per i destri quindi se impugniamo la forbice con la mano destra avremo l'arrotondamento sul basso e quindi le forbici scivoleranno sulla superficie da tagliare ecco qui vediamo meglio cosa intendo se impugnata con la mano sinistra la lama scivolerà sulla superficie mentre se impugnata con la mano destra non vedrò ciò che sto per tagliare quindi questa è la differenza questa è la forbice per i mancini mentre questa è la forbice per i destri spero di esservi stata utile se vi interessano queste forbici trovate tutto sul nostro sito elettronica didattica.com continuate a seguirci e scrivetevi al nostro canale youtube elettronica didattica ciao a tutti a presto